E ci appropriamo alla primavera e dopo tanti mesi di chiusore e restrizioni diciamo la verità abbiamo bisogno di respirare un po' di aria buona ma soprattutto la voglia di esporsi anche un po' al sole e per esporsi naturalmente al sole dobbiamo avere il nostro corpo bello pulito e bisogna puntare appunto sulla nostra bellezza. Quella del corpo gambe e braccia ma anche spalle se facciamo riferimento anche agli uomini e come si fa se abbiamo i peri in eccesso bisogna quindi lavorare da adesso ed è per questo motivo che abbiamo invitato qui oggi con noi Rossella Giacquinto titolare dell'istituto di bellezza Nausicaa. Buongiorno Rossella ben trovata Rossella per appunto il periodo è ideale perché ci appropriamo alla primavera dopo tanti mesi di chiusura abbiamo voglia di stare un po' all'aria aperta di magari di imbagnarci un po' al mare no di prendere un po' di sole però dobbiamo avere un corpo pulito diciamo la verità ed eliminare quei peri in eccesso che purtroppo il nostro corpo ha e quindi bisogna puntare dei trattamenti. Questo è il momento ideale. Cosa bisogna fare? Eh sì questo è il momento giusto anche perché un pochino di tempo l'abbiamo perso insomma Omicron ci ha un po' messo come dire spalle al muro ci ha tenuto un po' fermi per un periodo abbastanza lungo e poi il periodo migliore se vogliamo per iniziare con la fotoepilazione che poteva essere dicembre gennaio perché poi con il freddo è sempre meglio approfittare per parlare di e per applicare fotoepilazione sul nostro corpo. Però comunque c'è ancora tempo siamo a febbraio oramai insomma è tutto è tutto sotto controllo di insicurezza quindi è opportuno iniziare quanto prima questa pratica della fotoepilazione con il laser che è appunto la possibilità di eliminare il pelo in maniera progressiva e permanente definitivamente. Questa è una grande se vogliamo una grande scoperta una grande invenzione Mariù la bellezza è anche il bello di poter raggiungere un risultato tanto importante. I peli sono un grande fastidio chiaramente per pelo intendo il pelo in eccesso perché la peluria anzi è anche una protezione per il nostro organo che è la pelle però la peluria quella tanta quella folta quella in eccesso può creare disagio anche. Il vero e proprio disagio esatto può creare disagio quando si passa la lametta il pelo diventa sempre più duro se si fanno le cerette il trauma della cera indebolisce sensibilizza la pelle che deve essere invece trattata bene e la pelle ricordiamo che è un organo di protezione per il nostro organismo. Quindi va trattata bene perché altrimenti nel tempo si può sensibilizzare e sensibilizzandosi il nostro organismo poi all'interno ne risente. Quindi la luce laser non lo dico io ma lo dicono anche i medici è una buona possibilità per eliminare i peli alla radice per eliminarli piano piano e per dare la possibilità alla pelle di essere liscia rinvigorita e pronta per essere espostrazione. Quindi il trattamento che consigli tu per in eccesso è la fotoepilazione però Rossella a questo punto entriamo proprio nel merito nel dettaglio come funziona la fotoepilazione? Sì dunque si viene in istituto con il pelo rasato da una lametta quindi non bisogna utilizzare cere prima di fare la fotoepilazione non bisogna utilizzare macchinette di tipo rasoi. rasoi va bene proprio la lametta la classica lametta da passare nella zona in cui si è deciso e si è scelto di eliminare i peli. Una volta fatta questa operazione il giorno dopo si può fare il laser. Dico il giorno dopo perché fare la lametta lo stesso giorno del laser la lametta alle volte crea delle irritazioni quindi magari si potrebbe sentire un po' di dolore in più. Quindi sempre meglio farlo il giorno prima e il giorno dopo si pratica poi la seduta laser laddove si è deciso di eliminare i peli. E che cosa accade? Accade che la luce laser arriva al bulbo pilifero e il bulbo pilifero subisce uno shock termico. Questo shock termico fa sì che il bulbo vada in necrosi. La necrosi la possiamo immaginare un po' come se accendiamo una busta di plastica. La busta di plastica non si incendia ma si accartoccia. Ecco questo è quello che succede al bulbo pilifero si accartoccia. Il fatto che si accartoccia ovviamente fa sì che il pelo poi non furiesca più. È chiaro che in una seduta non è che si possono recuperare tutti i bulbi. Anche perché il bulbo diventa recettivo in una determinata fase di crescita del pelo che è la fase anagen. Non mi voglio addentrare troppo però voglio dire questo per inviare il messaggio che non è che facciamo una seduta e tutti i bulbi vanno in shock termico e quindi in necrosi. Diciamo che oramai statisticamente possiamo dire che per ciascuna seduta vengono colpiti il 15% dei peli. Quindi va da sé immaginare che ci forranno almeno una decina di sedute per raggiungere un buon risultato che andranno fatte per il corpo una volta al mese e per il viso una volta ogni tre settimane. Come opera di mantenimento fino poi a trovare... Poi chiaramente ci sarà bisogno di un mantenimento questo poi dipende anche dalla risposta che è sempre soggettiva, individuale ed è biologica. A proposito di risposta soggettiva, individuale e anche biologica ti chiedo a questo punto se la fotoepilazione sia un trattamento consigliabile a tutti e se vi sono degli effetti collaterali. Allora l'effetto collaterale non c'è se si è laser compatibili, questa è una cosa assolutamente che va vista, infatti sono contentissima di questa domanda che tu mi hai fatto perché l'anamnesi è sempre importante. Quindi non si può pensare di prendere un appuntamento telefonicamente ma l'appuntamento telefonicamente si prende per l'incontro. Avere una prima diagnosi... Sì, assolutamente va visto il tipo di pelo, va valutata biologicamente la persona se ci sono delle possibili controindicazioni per lo stato di salute momentaneo del momento della paziente. È chiaro che ci sono delle situazioni in cui non è possibile assolutamente fare il laser e questo lo si vede in studio chiaramente. Bisogna recarsi in loco dal centro, dall'Istituto di Bellezza Nausico di Rossella Giacquinto e capire qual è la nostra situazione attuale. Tra l'altro, Rossella, noi in realtà ci stiamo proprio in quando alla primavera, però l'estate è dietro l'angolo. C'è però chi dice, vabbè, è ancora nuvoloso per esempio oggi, fa ancora freddo, quindi aspetto un pochetto per sottopormi a tale trattamento. Quindi io ti chiedo invece, quando è possibile sottoporsi a questo trattamento, in quale periodo dell'anno? Consigliabili adesso o effettivamente come qualcuna o qualcuno sta pensando, vabbè aspetto magari maggio-giugno così sto bene per l'estate? Allora, la luce laser è possibile riceverla sempre, anche il 15 agosto, dico 15 agosto per dire proprio nel pieno dell'estate. Quindi con le dovute cautele e precauzioni è possibile farla sempre. Questa anche è una grande innovazione, perché non c'è più una stagionalità e si può sempre fare. Però chiaramente non è che la facciamo oggi la seduta e domani ci andiamo ad arrostire al sole e va programmato. Quindi onde evitare questi programmi, l'attenzione a dover utilizzare poi una protezione 50 e più per l'esposizione al sole. È bene iniziare adesso a fare quelle sedute che sono le più, quelle di sfoltimento. E arrivare poi al periodo estivo, con il dettaglio, dove si riesce anche a programmare la seduta a seconda di quando si deve andare al mare. Quindi dal momento che abbiamo ancora tempo per poter lavorare su questo tipo di benessere, se vogliamo, perché eliminare i peli secondo me è il benessere più... Sì, esatto, perché si tratta proprio di igiene anche personale, avere un corpo pulito, fa stare bene... Fa stare bene, non c'è il pensiero di dover... Ah, domani vado al mare oppure... Dipendentemente ecco dal mare o dal sole... Dipendentemente voglio mettere una minigonna, voglio stare sistemata, sto sistemata sempre, anche perché la cosa interessante è che tra una seduta e l'altra, che appunto abbiamo detto prima, passano quattro settimane, un mese, basta passare per stare sistemati la lametta. Quindi non c'è proprio più nessun problema, l'appuntamento è solo una volta al mese, dopodiché per essere puliti e sistemati bisogna passare la lametta. E questo è un grande risultato. Un grande risultato, Rossella, raccontiamo ancora un altro aspetto, quello positivo, i benefici della fotoepilazione, perché per le volte ce ne dimentichiamo. Invece no, bisogna anche un po' stimolare il pubblico femminile ma anche maschile, ricordiamo perché alla fotoepilazione possono sottoporsi le femminucce ma anche i maschietti. Anzi, le richieste dei maschietti sono ancora più alte. Aumentano, aumentano soprattutto per le spalle qualche sportivo, anche le gambe, perché sai gli sportivi indossano spesso dei pantaloncini stretti, mi riferisco ai ciclisti, ne sono venuti qualcuno che hanno questo tipo di hobby, quindi quei pantaloncini stretti danno fastidio ai peli e quindi li hanno tolti proprio all'origine. Molti uomini hanno fastidio alle spalle, quelle poche chiazze di peli che si vedono oppure se sono molto lunghi. Quindi, anche perché poi lavorare le spalle con la lametta diventa complicato, cioè bisogna sempre chiedere a qualcuno. Quindi è una cosa, cioè si raggiunge un benessere a 360 gradi perché si elimina il problema proprio alla radice. Lo eliminiamo definitivamente sì, no? Sì, sì, definitivamente sì. È chiaro che, ritorno poi al discorso di prima, c'è un'anamnesi da fare, laddove, io dico sempre che noi colpiamo, cioè la luce laser colpisce il bulbo pilifero, ovviamente non gli ormoni. Quindi laddove ci sono delle problematiche ormonali, va in bilanciato, assolutamente. Intanto grazie, grazie alla nostra ospite speciale, Rossella Giaquinto, ricordiamo titolare dell'Istituto di Bellezza Nausicaa, abbiamo parlato di foto e epilazione consigliabile sin da subito per riuscire a raggiungere un problema che effettivamente poi è definitivo, l'eliminazione dei peli superflui sul nostro corpo. Grazie Rossella. Grazie a te, Mariù. Piccolo break, restate con Mattina Live. Grazie a tutti.